La diga del gleno. Con questo video non è mia intenzione fare un racconto dettagliato dei suoi avvenimenti, ma bensì un riassunto generale dell'evento e il perché si potè sfruttare il dislivello dei monti per la produzione di grandi quantità di energia elettrica pulita e rinnovabile e poi trasportarla dove serviva, e che sono state le fondamenta per lo sviluppo del XX secolo. Invece, a chi interesserà conoscere nei minimi particolari la sua costruzione o come si svolsero gli eventi, sono disponibili in rete molte informazioni e anche diversi libri sono stati scritti su questa tragedia. Le prime dighe al mondo furono realizzate per uso agricolo dagli egiziani e popoli mesopotanici diverse migliaia di anni prima di Cristo, e ne vediamo i luoghi, utilizzando per la loro costruzione la tecnica più sicura valevole allora come oggi, che è quella di uno sbarramento pieno che ora è in video, ed è chiamato diga a gravità, sia in terra battuta o quelle in calcestruzzo di oggi, che ne vediamo le sostanziali differenze. Col 1800 entriamo nel boom dell'era industriale funzionante a vapore. L'energia elettrica che viene prodotta è in corrente continua, e non la si può trasportare su lunghe distanze perché si perde per strada, e poi non si era ancora in grado di sfruttare al massimo tutte le sue proprietà, e la nostra civiltà non riusciva a decollare. E in Italia è ancora peggio, perché non disponendo di materie prime e miniere di carbone come gli altri paesi industriali del nord Europa per la loro produzione di manufatti, eravamo il fanalino di coda del vecchio continente. E a parte i pochi anni del boom economico del secolo scorso, non è cambiato nulla. Siamo e continuiamo ad essere l'ultima ruota del carro dell'Europa che conta. Ma sul finire dell'Ottocento, Nikola Tesla che abbiamo in foto, che senza ombra di dubbio lo possiamo definire il padre della nostra era, inventando l'energia elettrica a corrente alternata, questo come prima cosa risolse il problema del suo trasporto su lunghe distanze e poterla poi utilizzare dove serviva con minime perdite. E se gli industriali o istituzioni nazionali ai quali si rivolse proponendogli i suoi progetti lo avessero aiutato a realizzare tutte le sue intuizioni geniali nel mondo dell'elettricità invece che sfruttare solamente quelle che facevano il loro interesse economico immediato, adesso noi viveremmo in un paradiso terrestre, addirittura meglio di quello descritto nella Bibbia. Ma gli affari sono affari e non si guarda in faccia a nessuno. Chi ha comandato in Italia negli ultimi sessant'anni, invece di sbatterse nei cosiddetti, si fossero impegnati a risolvere i problemi che ci travagliano, come vediamo da queste immagini in rilievo delle sole orobbie. Ma vale per il resto dell'Italia e avessero sbarrato con dighe sicure le migliaia di vallate disabitate che ci sono in giro da tutte le parti, avremmo risolto tre problemi importanti. Il primo, quello delle alluvioni, perché quando piove troppo l'acqua viene trattenuta dalle dighe in montagna e non va a creare danni e lutti più a valle. Una produzione di energia elettrica pulita quando serve ed eliminato il problema della siccità dei mesi estivi. E quanto vi sto dicendo non sono valle, lo avete sotto gli occhi. Il bello è che tutto questo ci è stato offerto quasi gratuitamente dal Padre Eterno. E finalmente potevamo bagnare il naso a tutte le nazioni davanti a noi. E che continuiamo inutilmente a rincorrere. Ma questo è il bel paese. In passato, l'energia elettrica fatta dalle centrali che sfruttano l'acqua per produrla, veniva chiamata energia fatta col carbone bianco. Prima di andare con la nostra diga vediamoci il suo bacino idrografico. Il primo atto formale per la sua realizzazione al pian del gleno sul torrente Povo risale al 1907. Però non si conclusi nulla. E il progetto fu poi ripresentato dall'ingegner Giuseppe Puntini Puntini di Bergamo. E ne vedete il suo nome perché non so come si pronuncia. Per la realizzazione di una diga a gravità contenente tre milioni di metri cubi d'acqua. E poi verrà acquisito dalla ditta Viganò che possedeva diversi stabilimenti tessili in Brianza. E grazie a questo impianto idroelettrico potevano diventare finalmente autosufficienti. Ma poi, per lo scoppio della guerra 15-18 e la mancanza di personale, perché tutti gli uomini validi erano al fronte, la costruzione venne rimandata. E con la poca mano d'opera disponibile, che erano per lo più vecchi, mezzi invalidi, donne e bambini, si realizzò la mulattiera e la tereferica. E vennero completati i rilevamenti topografici. Finita la guerra, presentati i progetti per la realizzazione della diga a gravità agli organi competenti di Bergamo. Ed allora come oggi, visto che le cose andavano per le lunghe e ai Viganò gli scadevano di lì a pochi anni i contratti con le ditte che gli vendevano l'energia elettrica per le sue aziende. Con la consulenza tecnica del progettista, prese in mano la direzione tecnica dei lavori e diede inizio alla costruzione della diga. Inizialmente i contadini del paese cercarono in tutti i modi possibili di ostacolarla, perché gli portava via i pascoli estivi del gleno. Ma eravamo appena usciti dalla guerra. Lavoro non ce n'era e la costruzione di questa diga assicurava per gli abitanti del luogo un salario sicuro. E poi tanta nuova energia elettrica della quale la nostra Italia ne aveva veramente molto di bisogno. E così iniziarono i lavori. Sul finire dell'Ottocento e i primi anni del secolo scorso, il cemento armato, dalla costruzione di scafi navali, si incomincia a usarlo anche nell'edilizia. E iniziò una rivoluzione che avrebbe cambiato completamente il mondo delle costruzioni. Ora, opere che prima erano immaginabili si potevano realizzare, oppure abbassandone drasticamente i costi, perché permetteva di impiegare metà materiale, tempo e manodopera per la realizzazione dello stesso manufatto. A questo richiamo del progresso, l'ingegner di Ganò Virgilio, subentrato alla morte del padre nella direzione tecnica che ormai aveva assunto impianta stabile della costruenda diga, mutò in fase d'opera il progetto. E da diga a gravità, contenente 3 milioni di metri cubi d'acqua, passava ad una 6, ma però ad archi multipli, che ne vediamo sul video la sostanziale differenza di costruzione. E l'ingegner di Ganò colse la palla al balzo, e la diga che stava per realizzare sarebbe stata la prima al mondo che impiegava le due tecniche di costruzione. A gravità, per il tampone fino al raggiungimento dell'altopiano, come vediamo dalla foto. E da lì in poi sarebbe stata ad archi multipli. Perché con la stessa spesa e tempo di realizzazione, questo gli permetteva di sopperire al fabisogno energetico presente e futuro delle sue industrie, eppure venderne anche a terzi. Forse i tempi non erano maturi, o le tecniche non ancora affinate, o per superficialità, oppure incapacità, o negligenza, ignoranza. Il risultato è stato che applicando queste nuove conoscenze alla costruzione della diga del gleno. L'uomo ha sperimentato sulla sua pelle che non sempre le cose vanno come lui vorrebbe. E quando finalmente i tempi biblici burocratici dei lavori pubblici concessero alla ditta Viganò il permesso di realizzare la loro diga a gravità come richiesto, facendo il sopralluogo al cantiere perché furono informati che la diga in costruzione, come si vede in questa immagine del getto dei piloni sul tampone, del progetto originale richiesto non vi era più nulla. E il cantiere venne fermato, fino a quando non avrebbero presentato la variante alla costruzione della diga, ma i lavori non vennero mai sospesi. Come si vede dalla foto, mentre la diga cresceva facevano aumentare anche il livello dell'acqua, tanto che i muratori si lamentavano perché gli complicava il lavoro. La diga era un vero colabrodo, perdeva acqua da tutte le parti, tanto che una volta per porvi rimedio ne abbassarono il livello e cercarono di impermeabilizzarla con cemento e bitume. Ma una volta rialzato, tutto il lavoro fatto risultò inutile, perché le perdite non solo non cessarono, ma anzi aumentavano maggiormente col alzarsi del livello dell'acqua nella diga. Durante l'autunno le piogge abbondanti fecero riempire fino a traboccare l'invaso dai canali scolmatori e le perdite aumentavano di giorno in giorno, tanto che con l'acqua persa dalla diga durante la notte si faceva funzionare una piccola centrale a valle. Queste stupende foto d'epoca che scorrono ora sul video sono di proprietà del sito internet www.scalve.it e ne vedete il logo. Nell'estate del 1923, la diga iniziata a due anni prima, si può dire che sia ormai finita e piena d'acqua. E questo gigante, con i piedi d'argilla, continuerà a incombere col suo carico di morte sulla valle e tutti i paesi sottostanti, fino al mattino del primo dicembre, quando successe quello che tutti prevedevano, ma nessuno aveva il coraggio di dire, ma che era solo questione di tempo che sarebbe accaduto. E il video ce lo mostra con questa tragica animazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.